benvenuti in questa guida top 7 banchi da lavoro di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo banco da lavoro master cargo il banco da lavoro master cargo è un prodotto di qualità eccellente è robusto resistente e ha una buona capacità di carico la superficie di lavoro è ampia e offre una buona stabilità i materiali sono di alta qualità e la finitura è impeccabile punteggio 79 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo wolfcraft banco portamacchine master cut master cut 2600 di wolfcraft è un prodotto eccellente è robusto stabile e ha una vasta gamma di funzioni la sua costruzione in acciaio resistente lo rende molto durevole la sua struttura regolabile lo rende adatto a qualsiasi lavoro il banco è dotato di una vasta gamma di accessori che lo rendono versatile e facile da usare punteggio 76 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo metal mobile banco da lavoro metal mobile mb 009 è un banco da lavoro di alta qualità con cassetti e armadietto tavolo da lavoro garage cavalletti da lavoro banchetto da lavoro e banco da falegname è robusto resistente e facile da montare ottimo per il garage o l'officina punteggio 84 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare ribimex ripr pm ret banco da lavoro ribimex ripr pm ret banco da lavoro è un banco da lavoro di qualità eccellente è robusto resistente e ha una superficie di lavoro di lavoro spaziosa la struttura in acciaio è solida e le gambe sono regolabili per adattarsi a qualsiasi ambiente ottimo prodotto punteggio 88 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo holzmann maschinen ww t06 werkbank ww t06 questa werkbank ww t06 di holzmann maschinen è una bancone da lavoro robusto e di qualità la sua dimensione di 1210 x 1500 x 610 millimetri offre un'ampia superficie di lavoro ideale per qualsiasi progetto il piano di lavoro in legno massiccio è resistente e durevole punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo baccagi banco da lavoro officina questo banco da lavoro baccagi è una struttura in metallo con piani in legno mdf parete portattrezzi cassetto e ripiani è robusto e resistente con un design moderno ed elegante la dimensione del tavolo è di 120 x 60 centimetri offrendo abbastanza spazio per lavorare comodamente punteggio 95 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica banco da lavoro con piano questo banco da lavoro è una soluzione eccellente per chi cerca un prodotto resistente e versatile il piano da 120 x 60 centimetri è ultra resistente con una parete forata e ganci universali per attrezzi inoltre sono presenti due cassetti e due mensole porta utensili punteggio 97 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale